A mezz'ora di macchina da Erat c'è una scuola che ricorda una cara amica e giornalista d'assalto. Dopo la vittoria talebana l'istituto è a rischio. Maria Grazia Cotuli è stata uccisa dai talebani qui in Afghanistan venti anni fa, questa è la sua scuola che le hanno intitolato vicino a Erat. L'isola di pace e insegnamento è nel mirino dei talebani, alcuni ex studenti dell'istituto. Il preside ha subito minacce varie volte. E con il nuovo emirato hanno dovuto nascondere in presidenza la foto di Maria Grazia che era all'ingresso. Il rischio, come conferma il preside, è che la scuola sia costretta a cambiare nome. Il rischio, come conferma il preside, è che la scuola sia costretta a cambiare nome. Il rischio, come conferma il preside, è che la scuola sia costretta a cambiare nome. Il rischio, come conferma il preside, è che la scuola sia costretta a cambiare nome. Grazie a tutti.